Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, situazione per la giornata di mercoledì con un campo di alta pressione tra il Mediterraneo e l'Europa orientale, condizioni di stabilità in tutti questi settori anche se l'arco alpino sarà interessato ad infiltrazioni di aria umida, di fatti le perturbazioni comunque rimarranno vicine tra Francia e isole britanniche. Nel dettaglio possiamo notare condizioni di alta pressione di piena estate sulle nostre regioni ma mercoledì mattina piovaschi sulle Venezie e poi Alpi, Prealpi, Ovest, Piemonte e Appennino durante la seconda parte del giorno. Ecco in sintesi la mappa dell'Italia, una giornata di alta pressione con qualche disturbo però mercoledì mattina sulla pianura Veneta e Friulana localizzati piovaschi con venti in ingresso da est, poi durante il pomeriggio Alpi, Prealpi, Ovest, Piemonte, Appennino, anche alcuni settori della Toscana brevi temporali nella seconda parte di mercoledì. Bello altrove con temperature estive 30 gradi attesi sul medio tirreno. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.